Vangelo di domenica 7 novembre 2021, Marco 12, 38-44. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli scrivi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore La liturgia di questa domenica ci presenta due vedove, due donne provate dalla vita. La vedova fenicia, quindi straniera, che ospita il profeta Elia, durante una grande carestia le è rimasta solo un pugno di farina e un goccino di olio. Eppure lei si fida e tutto quello che le è rimasto per sopravvivere lo dà al profeta e avviene il miracolo. L'olio dell'olio non si esaurisce mai, la farina non finisce. La vedova del Vangelo, invece, non ha nessun miracolo. Lei va inosservata da tutti, perché le vedove ai tempi, come sappiamo, non contavano assolutamente niente, anzi era una categoria nella Bibbia la più povera. Gli orfani e le vedove, in una società tutta maschile, la donna che rimaneva sola, specialmente se non aveva poi figli maschi, era veramente disperata e disgraziata, senza difese. E questa vedova infila al tempio per gettare la sua piccolissima offerta, che non sarà stata considerata da nessuno. Dal pavimento del tempio uscivano delle specie di trombe, un po' come quelle delle navi, che uscivano da sotto, e la gente buttava i suoi soldi lì dentro, che affluivano direttamente nel sotterraneo, nella camera del tesoro, nel cavo, diremmo noi. Quindi, chiaramente, quando i ricchi ne buttavano tante monete, si sentiva. Lei butta solo due spiccioli, due monetine, non si sente niente. Ma questo non sfugge al sguardo di Gesù. Gesù sta guardando, Gesù non guarda la quantità, come facciamo noi, dell'offerta. Gesù guarda al cuore, quanto cuore ci hai messo dentro quell'offerta. Lei ci ha messo tutto, gli altri hanno messo il superfluo. I ricchi hanno dato il di più, ma hanno mantenuto la loro ricchezza. Quella donna ha dato tutta la sua vita, letteralmente dice il Vangelo, tutto quanto aveva per vivere. Un gesto folle, come quello anche della vedova di Sidone della prima lettura, che dà tutta la vita, che dà tutto quello che ha. La vedova di Sidone viene ripagata, lei forse non ha avuto niente indietro. Eppure dice Gesù, lei ha vissuto, lei ha veramente donato. Lei è proprio l'immagine di Gesù che dà tutto. Lui si ritrova in questo gesto perché tra pochissimo, tra pochissimo tempo, lui darà tutto. Darà fino all'ultima goccia di sangue, diremo noi, fino all'ultimo respiro. Ecco, nella relazione con Dio, che è una cosa seria, non si può dare qualcosa a Dio. Bisogna dare tutto. Come dice la scrittura, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza, tutta la tua mente, perché è come tra innamorati, quando ci si ama, non ci si ama un pochino, non ci si ama per qualche tempo, si ama con tutto il cuore, si ama con tutto se stessi. E amare, come spesso ci viene ricordato nella Bibbia, vuol dire dare, vuol dire donare. Donare le cose, donare se stessi, donare il proprio tempo. Amare vuol dire dare e dare tutto. Non è facile seguire Gesù, ma è bello. E' questa radicalità che il Signore ci insegna e che noi, a fatica, cerchiamo di vivere seguendo le sue orme.